hola 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 io sono max dei berrofronzo questo brevissimo video è solamente per invitarvi a partecipare alla live su twitch che si terrà questo pomeriggio alle 5 e mezza quindi alle 17 e 30 di oggi 3 del 5 del 2016 quindi niente è tutto qua venite numerosi il canale è in descrizione e in ogni caso ci sarà anche il commento su facebook o comunque il post sulla pagina di facebook per avvisarvi quando effettivamente andrò in onda ci vediamo dopo a tra poco